Dal 1 giugno al 15 settembre partirà il piano estivo dei parcheggi per il comune di Pescara, con circa 1800 stalli a disposizione degli automobilisti per la sosta temporanea. A spiegare dove e come si potrà parcheggiare è l'assessore alla mobilità e ai trasporti Luigi Albore Mascia. Su tutta la nostra riviera, da nord a sud, offriamo 1800 posti auto, segnatamente 300 nell'area Xenaip che l'anno scorso abbiamo inaugurato, mille parcheggi sulla strada Parco a partire dal 19 giugno e poi oltre 500 posti nella zona sud di Pescara, dal lungomare Cristoforo Colombo, comprendendo anche i due parcheggi di via Barbella. Ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la chiusura al traffico di un tratto di lungomare? Sì, l'amministrazione è proprio nella direzione di incentivare la mobilità alternativa, di poter usufruire dei nostri spazi cittadini in maniera comoda e tranquilla. Sta pensando a tre o quattro chiusure tra il mese di luglio e il mese di agosto, del tratto di riviera che va da via Leopoldo Muzzi fino a via Galilei, nelle ore serali, quindi senza interferire più di tanto sulla viabilità cittadina, ma dando un segnale forte, un segnale nuovo, un segnale di cambiamento culturale, che secondo me sarà apprezzato al di là delle appartenenze politiche dalle forze in campo in Consiglio Comunale, ma soprattutto sarà apprezzato da tutti i cittadini, non soltanto i cittadini pescaresi, ma tutti coloro che ci auguriamo raggiungeranno come sempre la nostra città. Per le tariffe di quest'anno ci siamo più o meno attestati a quelle dello scorso anno, siamo a tariffe giornaliere, quindi non spezzate, di 3 euro e 4 euro per il parcheggio Exena, per rispetto al quale introduciamo un ulteriore elemento di novità dalla fine di giugno, che è quello del parcheggio notturno. Il 2022 altre novità sempre sul fronte ai parcheggi? Questa è una novità molto importante, anche questo è un cambio rivoluzionario, è contenuto nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco Masci, che è l'idea di creare una maggiore rotazione dei parcheggi sul lungomare, quindi introdurre a tariffe popolari, ma comunque dando un segnale di discontinuità rispetto al passato, il parcheggio a pagamento lato mare.